Il primo capitolo di Censo Man, che dura 52 pagine, sarà di sicuro il primo episodio, perché letteralmente nel primo capitolo succede di tutto, succede, quindi avrebbe assolutamente senso questa cosa. Poi, penso che andranno di tre capitoli a botta, perché sono letteralmente molto corti, questi capitoli sono stati molto corti, quindi ci potrebbe stare. Sì, secondo me tre episodi sarebbe il numero perfetto, gli altri sei sono due episodi, ma perché se ci fate caso non c'è molto da dire in questi capitoli. Cioè, il primo dura molto, è ok. Il secondo capitolo è uno scontro con un demone random, giusto per continuare, per farci vedere di cosa è capace Denji, è veramente mezzo episodio. Il capitolo numero tre, cos'è il capitolo numero tre? Sono la presentazione della squadra di... cioè del suo nuovo amico, insomma, di quello con cui farà... del suo primo compagno di squadra. Quindi, penso proprio che anche questa parte ci può stare. Poi, capitolo quattro, dipende, guarda, potrebbero per carità, questo primo volume potrebbero pure essere quattro episodi. Però, considerando che hanno annunciato e che avrà... che adatterà l'intero manga, penso che faranno tre capitoli. Quindi sì, tutto questo volume che abbiamo visto, tre episodi, secondo me. Tre episodi. Esce in autunno? Sì. Devo essere sincero, come inizio mi sembra molto basic. Forse anche fin troppo basic. Cioè, è un inizio molto comune, anche con altri manga. Sì, è simile a Jujutsu, simile a Tokyo Ghoul, possibilmente anche simile a Kaiju numero otto, anche se viene dopo. Comunque, è non troppo originale come inizio. Ho apprezzato tantissimo la componente gore, o comunque horror, che c'è stata. I personaggi sembrano interessanti. Quindi, Denji, soprattutto, Denji mi ha leggermente sorpreso, mi sarei aspettato forse un protagonista peggiore. Invece, è unico, a suo modo. A suo modo è unico, non mi viene di paragonarlo con altri protagonisti anime che conosco. Cioè, non mi viene da dire, cazzo, questo è uguale a quest'altro. È un po' unico per l'impressione che mi ha fatto. Non è che sia chissà cosa, perché, vabbè, si comporta un po' da coglioncello. Alla fine è un ragazzino di 16 anni, quindi, alla fine, per quanto riguarda proprio il suo personaggio, ci sta che si comporti in questo modo. E quindi, lui, va bene. Parlando di gli altri personaggi, Power mi piace. E qui, direi che possiamo iniziare a fare il sondaggio, ovvero, se è meglio Makima o Power. Devo dire, Power mi piace, è proprio il tipo di ragazza che, negli anime, insomma, è interessante. Makima la trovo un personaggio criptico. Intanto, aspettate che faccio il sondaggio. Niente, non so cosa farà più avanti. Mentre lui, Aki, mi sembra il Fushiguro, Fushigoro, come si chiamava, di Jujutsu. Il solito personaggio alla Sasuke. Non lo so, un po' sempre quello freddo, distaccato. Ok, ha vinto Power, ma è un 51% a 49%. Cioè, letteralmente, di un voto ha vinto. Quindi sì, ci può stare che siate così divisi. A primo impatto, in realtà, non lo so. Cioè, secondo me è meglio Power. Poi, magari molti di voi votano Makima perché andando avanti nel manga farà cose clamorose. Però per adesso mi sembra meglio Power. I trailer sono due. Adesso li vedremo, li vedremo. Quindi, per il resto, cosa c'è da dire su Chainsaw Man? Beh, disegni. Disegni veramente belli. Su quello non ci piove. Mi piace, come già ho detto, la componente gore e tutto quanto. Però finisce lì. Secondo me finisce lì. Per ora, eh. Come primo volume. Come primo volume, a parte questa cosa qui che vi ho detto appena adesso, a parte lo stile di disegno e a parte le waifu che sono belle, effettivamente, non è che mi abbia colpito molto, eh. Non mi ha colpito molto sto primo volume. Cioè, è quello che mi aspettavo, in questo senso. Non che sia brutto che... È proprio quello che mi aspettavo. Non mi farebbe inneggiare al capolavoro. Però, di sicuro è una bella storia. È proprio quel tipo di storia che a me piace, Chainsaw Man. Quindi, sì, dipenderà da come va avanti, ma se vogliamo fare paragoni. Il primo volume di Oshinoko era molto più d'impatto. Sì, per adesso, conti... Cioè, delle poche serate, delle tre serate che abbiamo fatto, Oshinoko stava più sopra. Decisamente più sopra, Chainsaw Man. Sia per originalità della storia, sia per colpi di scena. Questo qui, alla fine, era un inizio. Un inizio molto blando, secondo me, per Chainsaw. Però ci sta. Ripeto, ci sta. Non so, voi che ne pensate? Esci in autunno, sì. Non c'è molto da dire. Il ritmo del capitolo è molto veloce, è messo in un episodio e risulta in poco tempo. È vero. Poi, tra l'altro, ecco, un'altra cosa sulla quale ci potremmo lamentare, forse, è che non spiegano come funziona. Cioè, noi attualmente non sappiamo, uno, da quanto tempo ci sono i demoni, i diavoli. Due, cosa sono i diavoli. Tre, che tipi di diavoli ci sono. Come convivono con gli umani. È una cosa alla Tokyo Ghoul che si nascondono tra gli umani, o sono proprio, cioè, sono riconoscibili. Cioè, è una cosa proprio strana. Quindi, non ci hanno detto un cazzo. In questo primo volume, che probabilmente corrisponderà ai primi tre episodi dell'anime, non ci diranno niente. Un cazzo di niente su come funzionano i demoni, su come funziona il loro mondo, ma anche sul livello di poteri. E questa cosa, in realtà, è molto importante, perché ci aiuterebbe a capire come funziona. Perché Aki sembra un coglione. Poi, ci sono tutti questi spoiler che ho paura. Perché, probabilmente, molti di questi personaggi moriranno, presumo. Perché mi dà l'idea di un anime in cui more gente. E, quindi, evitiamo di cliccare spoiler. Però, il protagonista è una persona normale. L'abbiamo potuto vedere anche nel capitolo 4, quando sono andati a combattere contro il primo... Nel capitolo 4, sì, quando sono andati a combattere con il primo demone. Cioè, lui è semplicemente un umano normale con un'ascia. E, in questa scena qui, ha ucciso questo mostro con l'ascia, semplicemente. Quindi, sembra che abbia la forza di una persona normale, ok, che può trasformarsi in un mostro motosega. Ma, cosa avrà? Cioè, dall'impressione che mi ha dato, semplicemente è un demone con un'alta rigenerazione e con delle motoseghe. Non ha nient'altro. Power, d'altro canto, in realtà è un po' diverso. Perché Power è più... è più diavolo di Denji. Quindi, comunque, ha fatto quel balzo incredibile, ha il potere del sangue con cui crea le cose. Però, capito, anche questo tizio qua sembra un coglione con una spada, per quello che abbiamo potuto vedere. Un tizio con una spada, se è un umano normale. Quindi, non sappiamo, effettivamente, se è una cosa la Jujutsu, dove i cacciatori di demoni hanno dei poteri soprannaturali che li rendono bestiali. Per ora non si è capito niente, proprio niente. Non hanno fatto nessun accenno, né si è visto niente in merito a questa cosa. Ma come farebbe anche a sconfiggere tutti quegli zombie? Cioè, non lo so, non ce la fai. Cioè, se sono umani normalissimi, con una spada, come lo ammazzi questo, eh? Capito? Mi immagino che, tra l'altro, questo qua sia uno dei demoni più scarsi. Quindi ci saranno di sicuro dei demoni anche più grossi, più potenti. Se fossero solo degli umani normali non riuscirebbero. Quindi, sì, sono umani, ma come in, magari, Jujutsu, come in Tokyo Ghoul, avranno comunque una forza spropositata più forte delle persone normali. E per il resto, secondo me, guarda, questo è tutto. Questo è tutto quello che c'è da dire. Allora, prima vediamo, eccolo qua. Questo qua è il trailer del manga e poi vediamo i due trailer dell'anime. Anche se questo secondo trailer non possiamo vederlo, perché è spoiler. Quindi, primo trailer del manga di Chainsaw. Uscito nel 2020. Questo 24 settembre 2020. Censò, cos'è? Censò, censò, censò. Tanto, raga, è il primo volume, cioè non è un problema. Ah, le seguenti scene sono state censurate perché sono troppo scioccanti. Oh, forse non lo dobbiamo vedere. Vabbè, nel senso... No, mi sa che non si può vedere. Mi sa che non si può vedere. Mi sa che non si può vedere sta cosa. Aspetta, fammi vedere una cosa. Ma cazzo, raga, scusatemi, ma questo è il trailer del primo volume. Bello, bello. Vabbè, e vediamoci ovviamente i trailer dell'anime adesso. Eh, sì, vediamoci... Rivediamoci il trailer dell'anime, che qua è interessante. Quando l'abbiamo visto il trailer? Mi sa... A giugno è uscito. 16 milioni di visual. Porca puttana. Rivediamoci, rivediamoci. L'abbiamo visto tipo 6 mesi fa. Più di 6 mesi fa. Cioè, vediamo più che altro quante cose sono inerenti al primo volume. Mi sa, non molte, sapete? Ok. Forse faranno vedere il passato di... Ma comunque... Cioè, guardate la qualità, raga. Sembra veramente figo. Poi cazzo ci sarà power in costume, eccetera, di che stiamo parlando. E poi vabbè. Sì, non guardate troppo. Cioè, non concentriamoci troppo sulle scene. Ok, quella là è la scena di power che scende col martello. E queste robe, vabbè. Attenzione. È un bel trailer. Raga, parliamo... Facciamo i seri, è veramente un bel trailer. È veramente figo. È veramente figo. Però io mi vorrei soffermare su una scena in particolare. Oltre sul fatto che, vabbè, in questo trailer non c'è letteralmente niente, quasi niente, dei primi episodi. Manco fanno vedere il pipistrello, delle cazzate, su questa cosa qua. Nel senso... Nel senso. Nel senso. Eh, chissà, chissà. Chissà cosa farà Makima. Sì, ci stanno anche le motoseghe in sottofondo. Chissà cosa farà Makima nei primi volumi o nei primi episodi, dopo il terzo episodio. Eh, lo fanno vedere il pipistrello? Dove? Dove? Non mi pare di... Però, cioè, guardate veramente, raga, lo stile. L'inizio, tanto l'inizio non è spoiler. Quanto è bello, a livello grafico proprio. È veramente bello. Cioè, guardate questa parte qua. I piatti, le cose, proprio le luci. Le luci proprio di tutta la scena. È proprio fatto bene. Veramente bene. Vabbè, non so che cazzo siano questi, però ci sta Power in costume, quindi mi va benissimo. È figo. Ha proprio un bello stile. Cioè, speriamo che l'anime rimanga così. È proprio un bello, bello stile. Quando sta sul tetto. Tetto, tetto, tetto. Qua? Vabbè, questo qua in realtà è un cane. Ah, ecco il pipistrellone. Quindi, tanto, cioè, non è spoiler. Stanno combattendo sti cazzi. Ma anche Power, cioè, mi sembra fatto veramente bene. Ecco Machima. È figo, raga. Cioè, nel senso, questi trailer qui danno proprio una vibe di cose brutte. Cioè, proprio sentite anche le... Non lo so, le OSP in sottofondo. Cioè, è proprio... È bello. È bello, è bello, è bello.